Il tema fondamentale è quello di approfondire il processo di integrazione economica e sociale del lavoro in Europa e l'obiettivo deve essere quello della costruzione di un mercato del lavoro europeo che sia in grado di corrispondere ai bisogni e alle aspettative soprattutto delle giovani generazioni. Questo è possibile se da una parte riusciamo a superare oggi gli ostacoli che ci sono nel processo di integrazione e dall'altra se reimpostiamo una nuova politica del lavoro e dell'occupazione e soprattutto se rivediamo alcune norme che riguardano il mercato del lavoro. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.